Buonasera Signor Presidente della Repubblica, signor Sindaco, cari amici, ministri, vice-ministri dei paesi dell'America Latina, dei paesi carambici, benvenuti a Roma, la capitale d'Italia, un grande paese da dove sono partiti tanti i nostri concittadini nei secoli passati per cercare fortuna anche nei vostri paesi, ne sono tantissimi i nostri concittadini o cittadini di origine italiana che vivono nei nostri paesi e sono perfettamente integrati nei vostri paesi e e questo dimostra quanto sia forte la vicinanza tra voi e noi. Non è soltanto una vicinanza legata a relazioni di politica estera, è una vicinanza legata a una storia comune, a un'identità, a un incrocio tra persone. Signor Presidente della Repubblica, caro Antonio, dear Minister for Foreign Affairs and International Cooperation, este Minister and Delegates from Latin America and the Caribbean, dear colleagues, ladies and gentlemen, is for me a great honor and a pleasure to give you a very warm welcome to the Campidoglio, the ancient herd of eternal city and to this beautiful terrace.